Continua il costante controllo della viabilità da parte della Polizia Stradale di Caltanissetta, che ha elevato sanzioni amministrative per 5.338 euro, sottratto da 23 punti di patente e fermato un mezzo per tre mesi. In particolare, gli agenti nel corso dei servizi di vigilanza stradale seguiti sull'autostrada A19 hanno sanzionato due automobilisti che, avendo superato lo svincolo di uscita dell'autostrada, hanno effettuato una pericolosa manovra in retromarcia. Nei loro confronti, 430 euro di multa e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Nei confronti di un autotrasportatore controllato sulla strada statale 640, è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.130 euro per violazione della legge che disciplina il trasporto di merci. Nell'occasione il conducente trasportava merci diverse da quelle prescritte in licenza. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stato disposto il fermo dell'autocarro per tre mesi. Inoltre, sulla strada statale 626, è stato controllato un altro autocarro che trasportava merci senza il tallone di copertura, necessario per evitarne la dispersione. In questo caso è stata elevata una sanzione di 87 euro e la decurtazione di tre punti dalla patente. Un'altra autovettura, infine, è risultata avere gli pneumatici inefficienti e il vetro parabrezza con tante inclinature che limitavano gravemente la visibilità. Nei confronti del conducente, è stata elevata una sanzione di 261 euro e lo stesso sarà segnalato per la revisione straordinaria del mezzo ai competenti uffici.